Miele, il segreto per dormire meglio, bruciare più grasso e avere più energia Ti sei mai chiesto perché il miele fa così bene? Questo eccellente prodotto naturale è uno dei più ricchi di nutrienti e benefici per la nostra salute, e non a caso viene usato da millenni per prevenire e trattare condizioni di salute Di seguito ti elenchiamo i benefici più importanti del miele. Energia. Il miele è ottimo per chi conduce una vita attiva, come atleti e sportivi A differenza di altri carboidrati, il miele non causa una caduta dei livelli di zuccheri nel sangue dopo il picco iniziale. Inoltre, il miele migliora potenza e velocità Grasso. Un cucchiaino di miele prima di andare a dormire può aiutarci a bruciare grasso, accelerando il metabolismo e riducendo gli ormoni dello stress mentre dormiamo Il miele migliora potenza e velocità. Avendo grandiose proprietà antibiotiche, il miele può accelerare il processo di cura di tagli e ferite al contatto. Ipertensione. Il miele contiene oligosaccaridi, dei carboidrati che hanno proprietà antiossidanti e capaci di regolare la pressione sanguigna. Insogna. Un cucchiaino di miele prima di andare a dormire ci permette di addormentarci prima e dormire profondamente per varie ore. Il miele riduce la produzione di ormoni dello stress, spesso responsabili della difficoltà nel prendere sonno.